Ringrazio dell'invito che mi è stato rivolto dal Vescovo, dal Meic, dall'antico e fedele amico Cesare Massa, ma vi dico anche la mia gioia di essere qui, accanto al teologo Jürgen Moltmann, con cui ormai, tanti anni fa, ci siamo confrontati proprio su questo tema al Congresso dei Teologi Europei a Stoccarda in Germania e torniamo anche oggi a meditare insieme qui a Vercelli. Questo tema di Dio e l'Europa, i cristiani e l'Europa, le religioni e l'Europa è un tema al quale sovente torno con la ricerca, la meditazione e il confronto, esprimendo il mio pensiero in contributi che sono soprattutto pubblicati sulla stampa, sulla Repubblica. Anche oggi c'è un riassunto di quello che dirò proprio sulla stampa e sono stati anche pubblicati nel libro d'Arezzoli Nuove Apocalisse. Per cui torno volentieri su questo tema che io credo determinante e per la vita delle Chiese cristiane, ma anche per la polis europea, nella quale noi vogliamo non solo vivere, ma essere capaci di progettare un futuro che renda tutto il mondo, la terra più abitabile e dia una qualità di convivenza a tutta l'umanità. Innanzitutto una domanda. I cristiani hanno una parola da dire in quanto cristiani sull'Europa? La risposta non può che essere positiva. I cristiani sono dei cittadini della polis europea e come tali partecipano alla storia di questo continente senza esenzioni, senza evasioni. La nuova Europa diventa una sfida dunque anche per i cristiani, che nell'attuale congiuntura devono portare il loro contributo specifico alla configurazione di questa entità. Ma ecco invece l'altra domanda. I cristiani hanno anche una parola cristiana da dire sull'Europa? Qui la risposta in vero si fa più difficile. E le cose che dirò credo siano necessarie, perché sovente c'è molta confusione su questo rapporto tra cristiani e Europa. L'Europa non è un articolo di fede, non è un principio strutturale della vita dei cristiani e delle chiese, e la sua stessa unione è un progetto che non è esente dalla tentazione di Babele. Il progetto Europa interessa i cittadini cristiani, ma l'Europa, stiamo attenti, non può essere identificata né letta sulla Gerusalemme celeste che scende dall'alto, e l'Europa non è neppure la configurazione del popolo di Dio. Occorre molta vigilanza per evitare enfasi e ambiguità. Il progetto Europa ha bisogno del contributo cristiano, ma su di esso i cristiani non devono fare proiezioni teologiche. I cristiani, inoltre, non possono dimenticare che ogni tentativo di unificazione di popoli diversi è certamente positivo, ma a condizione a condizione che non si realizzi contro altri popoli o altre aree del mondo, a condizione che si spengano i nazionalismi, a condizione che non si induriscano le identità culturali e religiosi contro gli altri o senza gli altri, e a condizione che non si inneschi la miscela esplosiva che purtroppo abbiamo conosciuto tante volte tra religione e politica. Sarebbe non solo politicamente e socialmente disastroso, ma soprattutto radicalmente antievangelico. Io a volte ho purtroppo l'impressione che alcune voci che invocano un'Europa unita non tengano presente con chiarezza lo statuto cristiano in questo mondo e finiscano per progettare una nuova cristianità europea capace di coniugare potenze economiche, politiche e culturali con la religione. Si vuole davvero un'Europa senza un'ideologia eurocentrica? Un'Europa quale spazio di pace, di confronto, di dialogo, di accoglienza tra le diverse culture, rinunciando a ogni tipo di egemonia, oppure si vuole altro? In Europa i cristiani sono presenti da due millenni e hanno contribuito alla creazione di una civiltà plurale. hanno fornito un'etica e ancora nell'epoca moderna hanno di fatto impregnato la cultura, la storia e le istituzioni di questo continente. ci sono alcuni contributi fondamentali che il cristianesimo ha fornito e che l'Europa oggi, in crisi di valore, avrebbe interesse a riconoscere e a recuperare. L'affermazione della dignità della persona umana, la centralità della ragione, la solidarietà sociale, la communitas, come orizzonte per la società. Ma i cristiani hanno ancora qualcosa di specifico da fare? La recente firma della Costituzione europea e il processo della sua ratifica da parte dei singoli Stati ha riacceso il dibattito sulla storia dell'Europa e ha risvegliato il rammarico di molti credenti per la mancata menzione delle radici cristiane nella carta costitutiva del nostro continente. Si è preferito tacere una verità storica, dimenticando che riconoscere il proprio passato con le sue luci e le sue ombre non significa identificarsi con esso. Così menzionare che il cristianesimo ha contribuito in modo determinante alla formazione della cultura europea e all'idea stessa dell'Europa. Il termine Europa appare in alcune lettere papali nell'ottavo nono secolo per la prima volta con una determinazione precisa. Non sarebbe equivalso ad affermare che ancora oggi il cristianesimo fornisce un'identità collettiva all'Europa. «Riconoscere la nostra appartenenza a una società che vuole indagare i fondamenti della propria legittimità scrive Paul Ricoeur costituisce un atto di vericità e il percorso può essere solo il risalire la lunga storia il racconto a più voci le cui radici affondano nell'etica greca delle virtù nella romanità nel cristianesimo a volte in confronto scontro con l'ebraismo e con l'islam altre volte in tensione o rotture al proprio interno nell'illuminismo infine forse si è avuto il timore che dalla menzione delle radici cristiane si fosse obbligati a dedurre che l'Europa di oggi è cristiana e che al cristianesimo deve ispirarsi da più parti in questi ultimi tempi si sono fatte letture severe sulla attuale condizione dell'Europa potrei farne una lunga lista degli aggettivi su questa crisi dell'Europa Ciancio prima diceva con ragione che non bisogna avere sempre una valutazione soltanto negativa della crisi purtroppo questo in realtà sembra essere la voce più forte l'Europa è timorosa nella piena assunzione del proprio passato si dice che è stanca con le sue democrazie diventate materialiste ed edoniste affetta da nichilismo incapace di aprire un futuro al continente l'Europa è narcisista il cardinal Ratzinger ha parlato di un'Europa che nonostante la sua perdurante potenza politica ed economica è sempre più condannata al declino e al tramonto svuotata dall'interno un'Europa che odia se stessa sono giudizi duri che a volte cedono all'identificazione semplicistica e rischiosa tra Europa e Occidente magari saldando entrambi con il cristianesimo ma non va dimenticato che oggi a differenza di un tempo l'Europa ha un'enorme risorsa di cui io credo ci dobbiamo compiacere non lamentare la capacità di essere critica risorsa preziosa per un pensiero e una cultura plurale e aperta al futuro come ha mostrato con chiarezza Anna Arendt proprio la mancanza di critica ha dato origine ai totalitarismi sì, è questa nel bene e nel male l'Europa in cui viviamo tutti come cittadini e i cristiani devono vivere in questa reale Europa come discepoli di Gesù Cristo e questa l'Europa in cui dobbiamo assumere precise responsabilità perché il suo futuro sia a servizio dell'intera umanità contrassegnato dal dialogo dalla ricerca della giustizia e della pace per tutti in questa Europa i cristiani non sono né perseguitati né assediati ce lo ha ricordato recentemente un acuto editoriale di Civiltà Cattolica ma anzi sono invitati a un confronto con la modernità con la complessità con il pluralismo etico e religioso certo i cristiani dovrebbero avventurarsi in questo confronto fiduciosi nella forza di impatto dell'umiltà cristiana non mettersi in concorrenza con eventuali e momentanee arroganze in altre religioni dovrebbero anche essere pronti a rinunciare a diritti e privilegi acquisiti nel passato questo è un augurio che faceva la Gaudium et Spes il grande testo sui rapporti tra Chiesa e mondo del Concilio privilegi e diritti acquisiti ma che oggi costituiscono a volte un ostacolo per proporre in modo credibile la fede la via che notica dell'umile abbassamento percorsa da Cristo è l'esempio che i singoli cristiani e le chiese sono chiamati a seguire secondo la bella espressione di Martin Buber il successo non è uno dei nomi di Dio il successo non è uno dei nomi di Dio e quindi i cristiani non saranno ossessionati dal dover ottenere risultati che rispondono più a una logica di riconquista che non a una comunicazione della fede come il Vangelo la vuole e la determina qui si impone anche una precisazione sulla cosiddetta nuova evangelizzazione quello sforzo in cui si è da anni impegnata la Chiesa ma che non può assurgere a panacea che sana i problemi della modalità di presenza cristiana e del suo apporto all'edificazione della polis europea nuova evangelizzazione non significa imporre all'Europa il Vangelo e l'appartenenza alle Chiese non significa effettuare una retro evangelizzazione che ci riporti a un occidente cristiano precedente la modernità tantomeno significa tentare un futuro confessionalistico che non tenga conto dell'orizzonte ecumenico assunto soprattutto dal concilio dal pontificato cattolico e soprattutto da Giovanni Paolo II in questi ultimi decenni è l'ora di uscire da ogni strettoia confessionale ha scritto il teologo Moltmann che è qui tra di noi per avanzare insieme a largo è l'ora dell'ecumenismo per una nuova Europa altrimenti le Chiese diventeranno reliquie del passato evangelizzazione e dialogo dunque perché evangelizzare significa anche ascoltare il mondo ascoltare gli uomini e le donne di oggi per poter annunciare loro la buona notizia in un modo in un modo comprensibile più che mai dobbiamo ricordare le parole di Paolo VI che tanto hanno toccato la nostra speranza in quella che era la nostra giovinezza ma le ricordo queste parole la Chiesa oggi entra in dialogo con il mondo in cui vive la Chiesa si fa parola la Chiesa si fa dialogo la Chiesa si fa messaggio la Chiesa si fa conversazione con gli uomini Ecclesian Suam 67 la comunicazione della fede deve avvenire attraverso un processo spirituale che inizi le persone al mistero della loro esistenza che le aiuti sui cammini della ricerca di senso e non deve essere un indottrinamento dogmatico e morale non deve forzare la porta delle case per portare il messaggio e tantomeno convertire a qualsiasi prezzo la Chiesa non può sentirsi e comportarsi come una fortezza assediata anche se all'orizzonte europeo apparisse un atteggiamento a volte di incomprensione o anche aggressivo da parte del mondo non cristiano fin dai suoi inizi la Chiesa sa che l'ostilità nei confronti del messaggio del Vangelo non può essere né rimossa né evitata ma la Chiesa può forse pretendere per sé un esito differente da quello che ha avuto Gesù se Gesù che aveva la capacità di dire la parola di Dio con una trasparenza che nessuno di noi e nessuna Chiesa può possedere ha visto il suo messaggio rifiutato noi cristiani possiamo pretendere invece di avere più efficacia della parola stessa di Gesù che ci siano incomprensioni e ostilità Gesù ce l'ha detto e ce l'ha promesso allora nessuna tentazione di mobilitazione di ordine politico nessuna chiamata in soccorso lanciata a quelli che da sempre stranei e diffidenti verso il cristianesimo oggi lo scoprono come possibile strumento utile a consolidare il loro posizionamento nella società i cristiani sappiano anche evitare ogni manifestazione di integralismo che crea per reazione diffidenza e ostilità da parte del mondo laico il nostro passato tipicamente italiano e la laboriosa convivenza raggiunta dovrebbero insegnarci che laicismo e clericalismo si nutrono a vicenda quando i cristiani manifestano sfiducia nella forza evangelica propria dell'umiltà e dell'inermità della fede quando progettano una religione civile cercando di instaurare presidi e tentando alleanze strategiche con chiunque offra un appoggio alla forza di pressione nei confronti della società allora confondono la chiesa con il regno di Dio svuotando il regno di Dio nella sua valenza escatologica progettano una cristianità che appartiene al passato e che forse è stato un sogno e mai esistita veramente e contraddicono la buona notizia di Gesù nella costruzione dell'Europa i cristiani sono convinti che la politica rimane determinante anche per la loro vita di credenti nella società e Giovanni Paolo II di fronte al Parlamento europeo ha confessato che nei secoli della cristianità sono parole sue sovente nei secoli della cristianità purtroppo si era perduto di vista il principio proclamato per la prima volta da Gesù della distinzione essenziale tra politica e religione tra ciò che compete a Cesare e ciò che compete a Dio sono parole di Giovanni Paolo II negare o sminuire questa distinzione è una tentazione mai vinta una volta per sempre e colpisce sia i difensori di Dio che quelli di Cesare così sempre troviamo quanti vorrebbero identificare la fede cristiana con l'ordine politico auspicando di fatto uno stato confessionale e quanti vorrebbero specularmente un ordine politico sostenuto e garantito dalla religione con l'esito della religione civile le tensioni le tensioni tra chiese e governi e in questi giorni cominciamo forse ad assistere la prima tra governi e chiese si accenderanno sempre di più se il principio di laicità sarà minacciato da un laicismo che non consente alle fedi la manifestazione pubblica ma anche da nuove forme di confessionalismo che vogliono imporre a una società etnicamente culturalmente ed eticamente plurale la propria posizione di prassi esclusiva e qui mi pare che non sia di molta importanza il fatto che i cristiani di ogni chiesa condividano oggi la convinzione di questa necessaria distinzione tra religione e politica i cristiani che si sono scoperti in minoranza o comunque non più soli nella società europea e hanno imparato dalla storia che la fede cristiana non può identificarsi con l'ordine politico i cristiani oggi non vogliono dunque uno stato confessionale ambiscono uno stato segnato da una giusta laicità l'espressione di nuovo di Giovanni Paolo II in cui tutti i cittadini possano sentirsi rappresentati a qualunque fede etica e cultura appartengono certo questa giusta laicità non è laicismo ideologico né esclusivista ma è fatto di rispetto e di neutralità positiva proprio per questo i cristiani devono vigilare dunque perché non provalgano tendenze fondamentaliste settarie presenti ed efficaci in mezzo a loro i cristiani considerano la laicità come un'opportunità e di fatto già ne traggono benefici perché non è forse la laicità che permette i cristiani di essere presenti senza arroganza senza complessi di inferiorità nell'agorà della cultura delle iniziative di solidarietà del confronto etico si tratta in un certo senso di vedere la laicità come un aiuto a riscoprire il profondo legame e al contempo la chiara distinzione tra fede e impegno nella polis la fede in Gesù Cristo non è mai evasiva si colloca nella storia ispira all'agire dei credenti ma guai quando genera messianismi mondani o utopie ideologiche un documento anonimo del secondo secolo la lettera di Ogneto indica con chiarezza e attualità rara come i cristiani vivono nella loro patria ma sono forestieri partecipano alla vita pubblica come cittadini ma nello stesso tempo vivono in una nazione straniera che loro patria ed ogni patria per loro diventa terra straniera consapevoli che la loro vita rappresenta per molti aspetti una differenza la differenza cristiana appunto e per questo possono diventare segno di contraddizione per la società i cristiani mostreranno un comportamento bello secondo l'espressione dell'Apostolo Pietro in mezzo ai non cristiani mostreranno la differenza cristiana una differenza che deriva dall'ispirazione del Vangelo di Gesù Cristo e testimonieranno così senza complessi la loro speranza la loro presenza nella società diventerà compagnia il loro rapporto con gli altri simpateia la loro dimora sulla terra una convivenza serena capace di accoglienza e di generare cammini di comunione i cristiani proprio perché attendono il regno e la venuta del loro Signore guarderanno al futuro con speranza e potranno continuare a dire o ad essere buona notizia Vangelo come il Signore ha chiesto e così i cristiani cercheranno di aprire cammini e assieme agli altri uomini si sforzeranno di edificare la polis senza titoli di privilegio senza pretendere di possedere ricette infallibili e senza pretese di egemonia l'ispirazione dei loro progetti non significa dettare la forma di realizzazione e non dimentichiamo il Vangelo ispira la politica ma il Vangelo non detta ricette della politica queste le devono trovare gli uomini le devono trovare i cristiani nel confronto con gli altri cittadini nessun integralismo sempre figlio dell'angoscia di salvezza e di dominio deve inficiare l'attiva presenza dei cristiani essere cristiani significherà allora impegno a servizio della comunità politica indicazione di vie per l'Europa caratterizzata da orientamenti etici qual è la giustizia la partecipazione di tutti al benessere la pace e la convivenza come qualità di vita l'Unione Europea allora non sarà un bene esclusivo per i propri cittadini bensì estensibile a tutti gli altri paesi del mondo e a conclusione vorrei riferirmi soprattutto a un contributo che si evince anche dalla composizione di questa tavola di relatori che i cristiani devono dare se sono veramente fedeli al Vangelo e autenticamente profetici la ricerca di comunione tra di loro l'unità dei cristiani innanzitutto se i discepoli continuano ad essere divisi e opporsi tra di loro se non riescono nemmeno a incontrarsi per discutere i motivi di dissenso pensate che l'incontro avviene addirittura tra schieramenti politicamente opposti e tra governi ostili e non avviene invece all'interno di cappi delle chiese cristiane se di fatto con il loro proselitismo fomentano il mercato delle fedi allora il loro stesso agire per il progresso della fede risulterà depotenziato e la loro eventuale occasionale alleanza su singoli aspetti della normativa europea sarà letta dai non cristiani come unione strategica come lobby volta ad acquisire peso e potere presso le istituzioni politiche tra le chiese occorre che l'ecumenismo formalmente dichiarato come impegno irrinunciabile divenga un atteggiamento quotidiano che non consenta una chiesa di avanzare senza l'altra o peggio ancora contro l'altra solo così si potrà predisporre tutto in vista di una comunione autentica e feconda le chiese d'europa hanno elaborato discusso approvato insieme una carta ecumenica e non è un caso che siano state le chiese d'europa volerla ma questa va realizzata giorno dopo giorno con audacia pazienza e tenacia e questa unità dei cristiani deve essere perseguita come servizio all'unità dell'umanità i cristiani devono collocare ogni processo di unità in una prospettiva universale un impegno per la concordia tra le genti e le culture va accompagnato dalla ricerca convinta della pace dall'educazione alla convivenza pacifica delle nuove generazioni cristiane che non hanno conosciuto gli orrori della guerra da uno sforzo a evitare qualsiasi scontro di civiltà e avvolgere invece le tensioni in occasioni di confronto e arricchimento reciproco allora si potrà anche andare verso una mondializzazione della solidarietà una globalizzazione della giustizia e della pace solo così si potrà sempre di più pensare e progettare insieme la governanza mondiale che Giovanni Paolo II invoca nei messaggi della pace di questi ultimi anni obiettivo per il quale un'Unione Europea capace di umanesimo potrà dare il suo fondamentale contributo vogliamo darlo anche noi cristiani in umiltà ma con parresia con franchezza e con una grande simpatia per questa Europa di cui siamo cittadini grazie grazie a tutti